Allora ci troviamo all'interno del museo delle mura, qui comincia il percorso e comincia il camminamento di due, erano le guardie che partivano, chiaramente ci saranno le feritoie, quelle più piccole e quelle più grandi, ma andiamo avanti. Qui si vedeva che con ce l'hanno riguardo e potevano mirare in particolar modo gli arcieri. E' sempre una cosa affascinante.